Dopo la bruciante sconfitta di domenica scorsa contro Pistoia, il gol dei padroni di casa lo ricordiamo è arrivato al 92esimo minuto, la lucchese è pronta a scendere di nuovo in campo per superare il boccone amaro e ottenere punti importanti ai fini della classifica. Ad arrivare al Porta Elisa gli emiliani del Castelfranco, cariche dei 12 punti conquistati nelle ultime quattro partite, del bella 5-1 rifilato alla Rosegnano una settimana fa e desiderosi di continuare a vincere. In classifica sono fermi a 16 punti, 9 meno dei rossoneri. Entrambe le squadre quindi hanno i loro buoni motivi per voler far bene e innocenti e suoi che in settimana hanno lavorato tanto e bene insieme anche al nuovo acquisto Chiarabini non dovranno sottovalutare l'avversaria Riccione-Docet. E proprio il giovane ventenne arrivato da Lentella Chiavari che ha mandato in seconda fila Nardi, per lui non è escluso, un cambio di casacca breve, domani potrebbe già fare il suo debutto in maglia rossonera, in coppia con Brega e con Chianese, trequartista del centrocampo. Questa la probabile formazione, Casapieri in porta, Barretta, Angeli, Aliboni e specie in difesa, Carli, Redomi del giudice a centrocampo, Chianese, Brega e Chiarabini. Arbitra Andea Xausa di Portogruaro. A completare la terna arbitrale Andrea Zanetti anch'esso di Portogruaro e Nicola Bauder di Castelfranco Veneto. Domani infine, prima della gara fra Lucchese e Castelfranco, farà il suo debutto al Porta Elisa la mascotte della squadra rossonera. La Pantera sarà accompagnata in campo dai bambini della scuola calcio.